Siamo al touchscreen per le notizie in evidenza questa sera dall'Italia e dall'estero. Sul Lanza apertura a tema economico, Arera più 4,8% la bolletta del gas a settembre sul mercato tutelato a causa dell'aumento del prezzo del metano. Sky TG24, La Politica, il Festival delle Regioni, Giorgia Meloni a Torino ha detto sento il peso delle responsabilità, giornata conclusiva dell'evento che ha l'obiettivo di elaborare proposte utili al potenziamento del ruolo delle regioni e delle province autonome tra gli ospiti di oggi diversi ministri oltre alla Premier, ricordando i precedenti presidenti del Consiglio Meloni ha spiegato di capire la delicatezza del ruolo, esserne all'altezza è difficilissimo ha detto non consente leggerezza, superficialità o personalismi. La cronaca giudiziaria su TG24, lo stupro di Palermo, la vittima ribadisce le accuse in aula oltre sei ore davanti ai suoi aguzzini, non fu un rapporto consensuale, ha detto la 19enne smentendo la tesi dei difensori, pacata, fredda, ha risposto anche alle domande dei legali, degli indagati, tutti detenuti da mesi. Lo sport su ADN Kronos, Sinner batte Alcaras in semifinale, ATP Pechino, Yannick diventa numero 4 del mondo, l'Azzurro supera lo spagnolo 7 a 6, 6 a 1 in finale contro Mediviedev. Erano queste le notizie di oggi, adesso vediamo il meteo.